Ciao Ciao a tutti, siamo qui per celebrare la venuta recentemente della World Cup Roasting Championship con tutti i miei amici che siamo qui Abbiamo il mio amico qui, Yuri Vuoi dire qualcosa? Come si dice sempre Come si dice sempre Sì, è finito Vuoi cantare una canzone oggi? No, no, se volete vedere qualche video con i cantanti così l'abbiamo già fatto E' normale in Cina Ok La mia mamma è qui La mia figlia Manuele Ciao Yuri è il padre Damiano Siamo dal gruppo Nuova Simonelli Lauro Fiorecki Ciao ragazzi Sandro Sandro E il mitico Giovanni Giovanni Vanno qui per installare il nuovo Pink Eagle E poi vi mostrerò Quindi Faccio così Segmenta Dai, dai due pot Vai Olè Ho vinto l'aumento Ho colpito Grazie Grazie Grazie